Bentornati, continuiamo in questa lezione a analizzare insieme quali sono i diversi render passes che ci vengono forniti da Cycle e che possono essere utilizzati a partire dal nodo di input. Abbiamo visto la volta scorsa le voci fino a Index Material, iniziamo oggi a vedere la luce diffusa. La luce diffusa si compone a sua volta di tre tipi di luce diverse. La luce diretta, quindi diffusa e diretta, la luce indiretta e il colore. Andiamo a vedere il primo. Qui vediamo un'immagine in bianco e nero che rappresenta la quantità di luce che colpisce direttamente i nostri oggetti. La luce invece diffusa indiretta è invece quella luce che non arriva direttamente ai nostri oggetti ma che arriva da un rimbalzo. Immaginate i singoli raggi luminosi che partono dalla fonte di luce, colpiscono un oggetto, quindi rimbalzano e vanno a colpire indirettamente gli oggetti della nostra scena. Vediamo infatti che lo sfondo è praticamente nero perché non riceve una luce di rimbalzo. Vediamo invece che la luce che colpisce il pavimento contiene al suo interno il colore del materiale. Quindi qui in primo piano abbiamo una luce verde perché il materiale dell'oggetto è verde. Lo vediamo anche qui sul secondo oggetto, quello centrale, che riceve una luce di rimbalzo verde, mentre il terzo oggetto, la luce di rimbalzo è arancione e lui a sua volta invece fa rimbalzare una luce azzurra. La terza voce, diffuse color, è invece il colore puro, senza ombre, senza riflessi, senza l'influenza della luce. Infatti vediamo questa che è un'immagine completamente piatta. Dopo la luce diffusa abbiamo la luce glossy. Anche in questo caso abbiamo glossy direct, ovvero di luce diretta, indirect e color. Andiamo a vedere la glossy direct in maniera analoga a quello che succede con la diffuse direct, ovvero la luce diffusa diretta, che parte dalla fonte di luce, colpisce i nostri oggetti e viene fatta rimbalzare in base alla qualità del materiale che ne definisce la capacità di riflessione. In poche parole, in questa immagine in bianco e nero vediamo la capacità del materiale che abbiamo impostato di riflettere la luce in maniera diretta, cioè tutta quella luce che arriva a colpire direttamente l'oggetto. Vediamo per esempio questo bordino sulla sinistra del primo oggetto, perché arriva da una fonte di luce posta sul retro e quindi colpisce direttamente il nostro soggetto. Gloss indirect è la luce indiretta, quindi di rimbalzo, quindi la parte frontale degli oggetti la vediamo nera, perché la luce colpisce questi oggetti e poi rimbalza, ma noi stiamo invece vedendo la luce di rimbalzo. Infatti nel secondo oggetto possiamo vedere specchiato il primo, che è verde. Il terzo oggetto vede il primo, che è verde, e il secondo. In poche parole vediamo tutto ciò che è riflesso dal nostro materiale. Anche il pavimento ha una capacità riflettente e infatti riflette i tre colori dei nostri oggetti. Infine abbiamo glossy color, che ci fa vedere il colore della luce riflessa. Tutte queste immagini potranno essere utilizzate come layer sovrapposti, un po' come succede nei programmi di fotoritocco. Potranno essere esportate singolarmente e quindi potranno essere utilizzate per creare degli effetti davvero puntuali su ogni singola parte dell'immagine. Andiamo a vedere il gruppo Transmission, ovvero Transmission Direct, Indirect e Color, che però in questo caso si vedono tutte e tre nere. Quindi andiamo a modificare uno dei materiali e a rilanciare il rendering. Passiamo a Layout, seleziono il primo oggetto e andiamo a applicare un valore Transmission, per esempio pari a 0.5. Selezioniamo ora il secondo oggetto e impostiamo come Transmission un valore pari a 1. Proviamo ora a rilanciare il rendering e vediamo che cosa ci fornisce il nodo di input per i valori Transmission. Mentre Transmission Direct continua ad essere un'immagine completamente nera, perché non abbiamo una luce diretta che attraversa i nostri oggetti, Transmission Indirect è un'immagine molto interessante. Ecco che vediamo comparire il primo e il secondo oggetto, il terzo no perché non contiene nessuna componente di trasparenza. Al primo avevamo impostato un valore pari a 0.5, nel secondo abbiamo impostato un valore pari a 1, infatti si vede molto bene la differenza. Avrete sicuramente notato la grana, come anche in altre immagini. Questo dipende dal numero di sample e dal fatto che queste sono immagini che vengono prodotte prima dell'applicazione del The Noise. Andiamo a vedere Transmission Color e vediamo un'immagine molto simile a Diffuse Color, perché appunto si tratta di puro e semplice colore. Nessuna ombra, nessuna trasparenza, nessun effetto. Puro e semplice colore. Il terzo oggetto non lo vediamo perché non possiede nessuna informazione di trasparenza. Qui stiamo vedendo solo il colore degli oggetti con un minimo di trasparenza. Prima di proseguire andiamo un attimo a dare un'occhiata nuovamente all'immagine. Torniamo a Glossy Direct e per esempio Glossy Indirect. Andiamo a vedere di nuovo queste immagini. Vediamo che c'è la grana. Vediamo che ci sono le immagini riflesse. Ma ci sono davvero queste immagini? Andiamo a vedere l'immagine definitiva e andiamo a osservarla attentamente. Come possiamo vedere, qui si vedono benissimo le porzioni bianche del Glossy, si vedono molto bene gli oggetti e si vedono anche gli oggetti riflessi. Vedete qui in questo punto si vede il vaso verde che è riflesso su quello rosso e qui, anche se solo appena accennato, forse nella codifica video non si vedrà, comunque si vedono i primi due oggetti che sono riflessi in questo punto. Una cosa che non si nota ma che c'è è tutto quello che riguarda la luce riflessa sul pavimento. Quindi la luce indiretta che abbiamo visto avere un colore. A volte l'occhio non vede molti dettagli, ma questi ci sono. E la presenza di questi sfumatori di colore rendono l'immagine molto più credibile. È per questo che è preferibile utilizzare per esempio come luce ambientale un'immagine piuttosto che una luce monocromatica, perché un'immagine ambientale ci consente di avere una grandissima ricchezza di sfumature di luce diretta e indiretta che va a colpire gli oggetti nella nostra scena. Abbiamo poi volume direct e volume indirect, quindi informazioni sulle immagini con materiali volumetrici. In questo caso nella nostra scena non ne abbiamo, ma possiamo andare ad aggiungerne uno e vedere che cosa succede. Inseriamo nella scena un semplice parallelepipedo partendo da un cubo, al quale andremo a applicare un materiale volumetrico. In questo esempio ho applicato anche un gradiente per simulare una sorta di raggio luminoso, quindi lanciamo il rendering e questo è il risultato. In uscita dal canale volume direct abbiamo quindi un'immagine sempre in bianco e nero che ci riporta l'intensità della luce volumetrica diretta. In maniera analoga potremmo avere lo stesso tipo di immagine per la luce indiretta. Per quanto riguarda le informazioni invece inerenti le luci emission, inseriamo adesso un semplice cubetto al quale andremo ad applicare un nuovo materiale che chiameremo emission e al quale andremo a dare per esempio un colore, ad esempio questo arancione, e un valore 2 come emission strength. In poche parole questo cubetto emette luce, una luce arancione. Lanciamo nuovamente il rendering e andiamo a vedere che informazioni ci vengono date nel nodo di input per quanto riguarda emission. Torniamo al compositing, selezioniamo emit come nodo da collegare al viewer e vediamo che questa è un'immagine intanto a colori e ci mostra esclusivamente la luce emessa dal cubo perché è l'unico oggetto inquadrato a possedere un materiale che emette luce. Il connettore successivo, ENV, che sta per environment, ci mostra in questo momento un'immagine completamente nera perché nell'inquadratura non è mostrato il nostro environment, il nostro cielo. Quindi potremmo per esempio cambiare il punto di ripresa, duplico l'oggetto camera per mantenere una copia di questa inquadratura con shift D. quindi ruotiamo la vista per esempio in questa direzione e con CTRL-ALT-0 andiamo a impostare questo nuovo punto di ripresa. Andiamo anche a dare un'occhiata all'impostazione dell'environment in Word, nello shader editor. Vediamo che è un colore grigio, il classico colore di default. Andiamo per esempio ad aggiungere uno sky texture. e rilanciamo il rendering. Andiamo quindi a vedere nel compositing il risultato e vediamo che anche in questo caso è un'immagine colori che ci mostra l'environment, quindi la luce del nostro cielo, della nostra sfera che illumina la scena. Il connettore successivo AO sta per ambient occlusion. Questo è un tipo di immagine molto interessante in bianco e nero e ci mostra i punti in cui la luce viene assorbita dalla geometria dei nostri oggetti. Andiamo a osservare per esempio il punto in cui i nostri vasi si appoggiano sul pavimento. Vedete che qui la luce arriva, rimbalza più volte perché c'è una geometria che va a toccare con un'altra geometria e quindi a forza di rimbalzare viene via via assorbita in ogni rimbalzo e si viene a formare questa ombra di contatto. Ecco, questo tipo di ombra si chiama occlusione ambientale ed è dovuta proprio dalla geometria dei nostri oggetti. Infatti vediamo anche quassù in questo risvolto del vaso, in questo punto abbiamo proprio un'immagine quasi nera. Questo tipo di immagine può essere molto utile per accentuare questi tipi di ombre. Vedremo magari più avanti un esempio pratico. Bene, per questa lezione è tutto. Come sempre vi ringrazio per avermi seguito. Se avete piacere avete la possibilità di scaricare le dispense. Trovate tutto nel link che trovate in descrizione di questo video. E ci vediamo presto.